Ciao ragazzi, siete benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi sponsorizzeremo tre persone in questo video, allora il primo è Anthony Lofino, scusa se l'ho pronunciato sbagliato vedo che fa anche Fortnite, a me piace molto Fortnite, lui lo fa ha 64 iscritti, quindi facciamolo arrivare al primo traguardo che sarebbe ricento fa anche video con la telecamera del telefono quindi c'è dico, fa l'unboxing ha fatto un unboxing e si vede l'etico si vede la faccia e poi sponsorizzeremo gli altri ecco ragazzi, siamo al secondo è agg09 tastino basso youtube it, ragazzi iscrivetevi da noi, facciamolo arrivare ai 1000 iscritti, ora il 92 facciamolo arrivare all'inizio a 100 iscritti per il primo traguardo fa bellissimi video Minecraft è il mio gioco preferito fa anche Brewstars e fa un botto di copertine che a me piacciono un botto ma sono bellissime è un grande se li merita tantissimo gli iscritti anche i 100 iscrivetevi al suo canale ok ragazzi terza e ultima sponsorizzazione vale ha fatto anche l'evento di Galactus con la copertina fa Fortnite che è bellissimo Fortnite ha 143 di livello quindi al pass raga è bravissimo è un grande è un botto di copertine e fa dei video che potete fare tipo distruggi stato dello schiacciano ci sarebbe una missione vi aiuta per fare il livello per livellare su Fortnite ragazzi iscrivetevi grazie a tutti Grazie.